Ok Mister Boncore, allenatore della Berretti una partenza un po' difficoltosa ma i ragazzi stanno dimostrando grinta e voglia di fare bene qual è il suo bilancio fino ad ora? è un bilancio positivo anche perché c'è dei ragazzi abbastanza umili che vogliono migliorarsi e io mi voglio migliorare insieme a loro si sta lavorando bene durante la settimana con l'obiettivo sia che i ragazzi raggiungano la prima squadra che magari al Mister serve un'altra settimana così se dico guarda per avere uno sbocco anche in chiave prima squadra e sia perché ci stiamo confrontando con due giorni in realtà di quali sono abbastanza organizzate come squadra e quindi ho miglioramento sabato un'altra sfida come state lavorando? guarda con la stessa umiltà che tento di inculcargli io sempre alla squadra dall'inizio dal primo giorno e questi ragazzi mi stanno dando risposta negli allenamenti che è alla base di tutto poi se la domenica non viene il risultato non è perché non hanno sudato la maglia questa è una cosa che io ho inculcato a me non mi interessa il passaggio sbagliato non mi interessa lo sono stato anche con i giocatori mi interessa che escono stremati dal campo e questa è la mia soddisfazione la sensazione nel vederli giocare è di avere davanti un gruppo molto unito? sì, sì quello che siamo riusciti a creare insieme a questi ragazzi non ci siamo posti degli obiettivi settimanalmente il nostro obiettivo è raggiungere il sabato la migliore condizione possibile mentale e fisica grazie mister, in bocca al lupo forza e sempre Torres